Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale, come va? Spero che state bene e che state trascorrendo una splendida giornata. In questo video voglio commentare alcune dichiarazioni di Cairo che rilasciato al Festival dello Sport di Trento. Fondamentalmente è parto delle dichiarazioni di Cairo, ma ha parlato di argomenti che sono estendibili un pochino a tutto il movimento calcio italiano. E queste dichiarazioni riguardano appunto gli investimenti e i ricavi delle scuole italiane. Ha detto che comunque fatturiamo un terzo delle scuole di Premier, che bisogna tornare a puntare sui giovani e che però c'è bisogno di un aiuto dalla Lega Calcio. Fondamentalmente è tutto vero, però onestamente io, Davor, che sono una persona molto concreta, posso essere d'accordo con tutte le parole. Ma di base ci vogliono i fatti. Allora, in primis partiamo dal presupposto che ormai ogni squadra non è più soltanto una squadra sportiva, bensì un'azienda. Quindi ogni squadra deve fare il bilanciamento tra costi e ricavi anche per ottemperare a tutte le varie eventuali regole che provengono dalla FIFA se poi queste regole entrano in gioco in base alla squadra appunto della quale si parla. Però fondamentalmente un'azienda, come che si sostenta? Si sostenta in primis prendendo delle misure lei. Quindi ok, va benissimo, un eventuale aiuto dalla Lega, però bisogna saper fare del player trading. Bisogna saper giocare a livello commerciale per avere maggiori introidi. Quindi io sono d'accordissimo con Cairo. Ma sono dichiarazioni che lasciano molto il tempo che trovano. Perché se poi, e non solo Cairo, si parla dei giovani, anzi oggi è uscito anche un video dove parlavo di dichiarazioni di Scalvini, fiducia ai giovani, i giovani se sono bravi giocano. Però bisogna investire su un settore giovanile. Ma su questi giovani, quando si deciderà mai di investire sui settori giovanili, devono essere fatti giocare. Vi porto un esempio. Il Torino, dato che si parla appunto di Cairo, qualche anno fa aveva un potenziale ottimo centrocampista. Tale Mattia Sandri, classe 2001. Io ho avuto la fortuna, diciamo, di vederlo dal vivo, perché ho seguito tanti tornei giovanini, quando lui giocava con gli allievi. Ed era veramente un motorino. Un giocatore stancabile che avrebbe potuto avere la possibilità di giocare fuori, però poi niente si è concretizzato. E ve lo dico per certo, perché il sottoscritto era coinvolto. Però su un giocatore così, che quando aveva 17 anni era veramente un motorino, poteva migliorare tecnicamente sicuramente, però un centrocampista box to box, che metteva grinta, che metteva voglia di emergere. Però poi su Sandri non si è più investito. Dopo che ha fatto delle ottime stagioni del 17, fatto il passo successivo, in primavera, ha avuto difficoltà. Ma deve essere stabilito un processo di crescita. Io mi rifiuto di credere che un giocatore, che gioca titolarissimo nell'under 17, appena va in primavera e diventa un brocco. Magistralmente giocano tutti gli altri giocatori. Il grande step vi è tra giovanile e prima squadra. Lì posso capire se è un fenomeno in primavera, poi magari, boom, devi fare il salto in prima squadra, ma non è la giusta tenuta mentale, non ti adatti ai diversi tempi di gioco, non ti adatti ai totalmente diversi ritmi di gioco. Non è la mentalità magari di reggere certe pressioni, ma che non mi si venga a dire che un giocatore colonna dell'under 17 arriva in primavera e comincia a giocare tre partite all'anno. Non me l'ho venuto a dire, perché è impossibile. Può giocare un po' di meno la prima annata, ma poi piano piano trova il suo spazio. Poi voglio dire il Torino. Cairo, che da anni, a parte Singo, non sforna giocatori interessanti. E va a prendere Stegno Zanetti, e va a prendere i fuori quota Garbet e Beten. Che senso ha? Che senso hanno le dichiarazioni del Presidente? Non ce l'hanno. Ragionamento condivisibile, ma totalmente disatteso dai fatti. Vogliamo dire che magari il Torino non ha più questo settore giovanile di 15, 20, 30 anni fa? Diciamolo anche. Ma di chi è la colpa? Sicuramente non mia. Non soltanto del sistema calcio, ma anche di politiche aziendali che non hanno favorito un certo sviluppo, un certo miglioramento dei settori giovanili. Strutture comunque alcune vecchiotte. Bisogna avere strutture che aiutano i giovani a migliorare e a migliorarsi loro, ovviamente poi anche le loro prestazioni di contro nelle squadre dove giocano. O meglio, nelle categorie dove giocano. Vero? Tutto? Però è un po' ipocrita, ok? Una dichiarazione un po' ipocrita. E magari va a prendere baglieie, però poi, boom, lo sbatti lì. Oggetto misterioso. Già quando vi presentai il giocatore vi ho espresso un po' di miei dubbi sulla reale funzionalità di quell'acquisto. Tant'è che non gioca mai. Mai. Provato anche da braccetto di destra in difesa 3. Niente. Acerbo. Bisogna tornare alla mentalità che i giovani bisogna costruirseli. Ma costruirsi i giocatori vuol dire puntarci. Quindi bisogna che anche gli allenatori ci puntino di contro. Però bisogna avere delle strutture che aiutino in questo. Non soltanto, come vi ho già detto in tanti altri video, soltanto la filosofia del risultato. Perché la squadra deve vincere, perché l'allenatore della primavera deve emergere. Brambilla all'Atalanta nella primavera ha fatto un ottimo lavoro. Perché comunque alcuni giocatori dell'Atalanta a primavera sono andati a giocare in prestito in B o in C. Però la stessa Atalanta deve tornare a puntare sui giovani. Scalvini su tutti. E lo stesso Scalvini ha detto i giovani, se sono bravi, giocano. Come vi ho detto l'invio di stamattina, sì, vero, sono d'accordissimo, ma devono trovare un ambiente che le aiuti a progredire. Perché se no, queste dichiarazioni comandano come il due di coppe quando comanda bastoni. Sì, non quello dell'Inter e dello Spezia, quando comanda bastoni di simbolo della carta. Che altrimenti veramente queste parole sono fuffa. E ora nel calcio non c'è bisogno della fuffa. C'è bisogno di prendere posizioni. C'è bisogno di prendere una linea direttrice e perseguirla. La Juve vuole tornare al passato puntando sullo scouting? Lo faccia. E come la Juve e tante altre squadre. Ma poi, se per un giovane, ci devi puntare. Il giovane deve poter sbagliare. Non si deve accusare un giovane per un errore. Bensì, deve essere per lui un momento di miglioramento e di crescita. Se no, lui stesso non cresce, la squadra non cresce e il movimento calcio italiano non cresce. così noi in Under 21 siamo pieni di giocatori di 22 anni, quindi classe 2000. In nazionale non abbiamo per niente le riserve di Bonucci, le riserve di Acerbi, non abbiamo le riserve di Giorginio, non abbiamo la riserva di Immobile e questo è il risultato. Di Verratti, perché comunque anche Verratti è un 92, ormai ha 30 anni, può fare due, tre anni buoni nazionale, ma bisogna pensare al futuro. Avere programmi a lungo termine, non soltanto a breve termine. Ma voi ditemi, allora, Acerbi, classe 88, Bonucci, classe 87 e poi, ma che abbiamo dietro? Gatti, forse si affermerà. Scalvini, senza motivo, lasciati Under 21. Viti, grandi prestazioni all'Empoli, staremo a vedere cosa farà. Ma molti dicono, ma Bonucci è Acerbi e prima ci stava Chiellini e grazie al cacchio non abbiamo niente dietro. Qualcosina Coppola sta dimostrando, ma anche lui deve molto crescere perché sta compiendo tanti errori di immaturità, ma come vi ho detto, i giovani devono poter sbagliare e si deve investire. Di Lorenzo è un 93, va per i 30 anni. Non possiamo chiedergli di fare tutte le partite del mondo. Stavo parlando con una giornalista che tratta di Napoli in questi giorni e che, insomma, siamo confrontati appunto su questo discorso di Di Lorenzo e metto sì è vero, però su Zanoli a volte è giocato, sì d'accordo, ma Zanoli deve giocare di più. Perché se Di Lorenzo con un mondiale adesso in Qatar che sicuramente disputerà a 29-30 anni non può farti 45 partite su 45. ma l'alternativa chi è? Zanoli? Cioè Mancini ha dovuto riprendere Gabbiadini? Grifo, ancora questo Grifo. Decidi ormai fuori. Ancora con Emerson Palmieri che per l'amor di Dio a livello di una grafico ci sta in pieno però non parliamo di un top player. Stiamo a vedere quello che succederà. Ovviamente fatemi sapere qui sotto cosa ne pensate di questi argomenti e ripeto Cairo io sono d'accordissimo con te ma ci vogliono i fatti. Vi mando un abbraccione e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!